buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale b word 2.3 che cosa parleremo parleremo del 64esimo episodio dell'era glaciale le avventure e nel recente video che cosa avevo fatto non me lo ricordo raga è passato già un anno che già siamo dal 2023 al 2022 perciò non me lo ricordo a parte che è successo un mese fa da quando ho caricato il 63esimo episodio giusto forse avevo sbloccato l'isola avevo salvato qualcuno non lo so comunque vi auguro una buona visione eccoci qua ragazzi nel 64esimo episodio dell'era glaciale le avventure vediamo qua che cosa possiamo fare in dando raccogliamo le bacche come prima cosa come minimo quale è l'evento agli alberi ok quello me lo posso fare per conto mio costruisci per il trodon de rose fatto ma che diamine è aspettate ma non ho capito raga va bene va capito capito quale cosa c'era c'era qualcosa raga come out come out wherever you are ci torniamo dopo va bene e allora andiamo qua così moderiamo la situazione ok una torcia l'abbiamo ottenuta qua nel frattempo abbiamo sbloccato il ponte ma ce n'è un altro ok ok già alcune cose quando ho voglia un altro progetto ma penso che ora non servono più visto che ormai ho fatto tutto oh un altro torcia ho ottenuto bene 68 68 e attenzione ok 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 si è imballato raga si è imballato raga si è imballata la missione ok 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 2 ghiande ecco piccola ok I got him now. If you're big, I'm bigger. Got it. See, this is why you're great, Jack. Hurry, if Manny's on the case. Great find. Professional coming through. This is going to require my special skill. Dimey. Great. Good thing I find it steeper. Fail out to 11 times. Prepare to witness making a move. Unless I grow wings. What are you doing, pal? Here we go. I can't get over there until I clear a path, silly. Go in. Go in. I just understand. I can't get over there until I clear a path. Let me show you how I'm back. I can't get over there until I clear a path. Watch this. Bingo. Got it. Va bene. Questo è molto fantastico, raga. Torniamo a riaffrontare Cretaceo assieme a Buck. Questo ziggio è fantastico. Davvero. Come on, you can still do it. E ho combinato un bel disastro, ragazzi. Ho combinato un bel disastro. Ho soltanto due vite. Questo non posso usarlo. Di nuovo. Ho soltanto due vite. Oh, finalmente Perfetto Io ho soltanto due vite Raga, perciò Però sto recuperando, dai Ottimo lavoro Nice È un po' difficile Lo so Tre Eh, non mi azzardo raga Non mi azzardo Potrei farlo, ma Darei il pundeggio a lui E quindi non posso fare niente Anzi, devo stare molto attento Molto Eeeh Eeeh Uno Quasi alla pari siamo, raga Esatto Per l'appunto Siamo alla pari Quindi Lo scontro Sarà Equo Vince lui o vinco io Ma devo stare Molto Attento Attentissimo Eeeh 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 Se spundono tre pie, tre sono salvo No 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 Cinque ore Devo aspettare Dannazione No No Lo sapevo io raga Beh Se dobbiamo rigiocarci Dovrei Spendere Dovrei Rispendere Ma non ne ho voglia Quindi lo faremo nel prossimo episodio Però qua potrei fare qualcosa E allora cosa E allora cosa Semplice Allora innanzitutto vado a ristrutturare l'habitat del liquadonde che ce n'è bisogno propriamente Così ho anche spazio E la prossima volta sarà anche pronto Poi ci gioco Per il momento Ho altro Al cui pensare Qua esploriamo L'isola a fuochi di Vambandi E salviamo Il cucciolo di Guadonte Eh Non male come titolo No Giochiamo Ho fatto un errore madornale Raga Se vincevo di nuovo No anzi Se vincevo quella battaglia Che già l'avevo affrontato precedentemente Avrei sbloccato La parte terreno La prossima parte se ne parlerà nel prossimo ancora Per sbloccare l'altra parte terreno Che traffico E ragazzi come potevo prevederla Una cosa del genere Forse c'è un motivo Perchè ho vinto Quelle due ghiande In più Anzi Quattro Perchè le ho vinte due volte Anzi Le ho trovate Dove E Nelle bombole Perciò Va bene E anche questa è completa Già l'ho appena fatto Ah già è pronto Vediamo Ok Abbiamo ottenuto un'altra torcia Ma di torcia ne manca Un'altra E manca anche Un altro animale Da cui salvare Il trodonte rosa Dice la pietra focaia Che manca è vero Che manca è vero Eh E dove Io non la vedo Ecco Ecco Guardate C'era una vongola nascosta Eccola Finalmente E ho completato Propriamente Quasi Tutta l'isola Quasi Era ben nascosta Purtroppo L'altro Bene Ma che Che è successo Che è successo Non ho detto Di andare a casa Anzi Di salvare Scusatemi Ho trovato Delle ghiande Così recupero Andiamo Andiamo Delle ghiande Delle ghiande Delle ghiande Vediamo Che premio Raccogliamo 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 165 Raccogliamo 165 ghiande Ho ottenuto Ne ho speso Ne ho spese Due Quindi Non sono 167 Ma almeno Recupero Tutte le ghiande Che ho speso Di più Di più Di più Dovevo Dovevo Utilizzarle Per salvare Il tirannosauro Gli Ptenorodattili Ancora Non l'ho fatto Verro Esatto Non l'ho fatto Ancora D'accordo Ragazzi Direi Che possiamo Concludere Il video Qui E quindi Esploriamo L'isola Fuochi Di Vambandi Salvando Il cucciolo Di Guadonde Beh Ragazzi Spero Tanto Che questo Video Vende Dell'era Glaciale Avventure Il 64esimo Episodio Esploriamo L'isola Fuochi Di Vambandi Salvando Il cucciolo Di Guadonde Vi sia Piaciuto Iscrivetevi Al canale Mi raccomando Di un bel Like E noi Ci Siamo Alla Prossima Ciao